San Francesco 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 più di fronte i fili degli operari, abbiamo di fronte i fili dei massoni, è completamente diverso questa peste rossa che entra da tutte le parti e in tutti i livelli e voi lo sapete, mi fate finta di niente perché forse vi è convenuto per tanti anni far finta di niente, adesso non si può più, non c'è più niente, adesso non conviene più a nessuno, o facciamo un cambiamento, io sono qua perché sono stato costretto, noi siamo stati costretti a immaginarci qualcosa di diverso, questo capitalismo non funziona, non è applicato male, è proprio questo il capitalismo, è questo con gli effetti collaterali che ha, il capitalismo va in Grecia, disintegra la Grecia e come se niente fosse poi va in un'altra nazione, va in Spagna, viene in Italia, gira il mondo e disintegra dove passa, dobbiamo avere un piano B, io voglio un piano vivo, voglio capire come resisterà mio figlio e mio nipote, ecco perché mi sono messo in gioco. Allora, le difese quali sono? Io non lo so, so solo che abbiamo fatto questo movimento che è diventato una comunità, stiamo girando, io di nuovo col camper, giro tutta l'Italia e sono partito dalla Sardegna, dalla Sicilia, sono stato in Puglia, sto venendo su piano piano ed è una marea ancora più grande dello tsunami, sta succedendo, sta proprio succedendo nei nostri occhi, non fate finta che non ci sia già un cambiamento, c'è già un cambiamento, non percepiamo a pelle, questo non è un comizio, io non sono venuto a chiedervi molti, sono venuto solo a dire che se state lì a guardare dalla finestra non cambia mai niente questo il movimento, questi sono giovani, questi giovani qua, un anno fa, i 160 parlamentari che abbiamo in Parlamento e quelli che manderemo al Parlamento Europeo, ecco, quelli che manderemo al Parlamento Europeo sono giovani che non scappano dall'Italia, ma partono dall'Italia per andare a cambiare l'Italia, Bruxelles, è molto diverso scappare o partire. Ora io ero un comico, lo capisci che era un comico, non posso neanche fare le battute, non posso farlo, ci sono tutte le televisioni, noi siamo, ogni periodo ha il suo fascismo, dicono che io sia un fascista, mi chiamano fascista su quei giornali e nelle televisioni, fascistello populista, ogni periodo ha il suo fascismo che si insinua, si insinua dentro, non te ne accorgi perché non è più il fascismo militarizzato o con l'ordine pubblico, è un fascismo molto diverso, è un fascismo che esiste e nasce quando migliaia, migliori di persone non hanno più voce, ecco dove nasce il fascismo, quando l'informazione è depistata da questi mezzi di informazioni perennemente, ecco dov'è il fascismo. Quando blocchi la scuola, quando blocchi l'intelligenza, quando blocchi il senso critico, il giornalismo ha quel dovere lì, di servizio pubblico, il giornalista non esiste, esiste il giornalismo come servizio pubblico per accentuare il senso critico dei cittadini, dov'è il nostro senso critico? abbiamo paura, abbiamo ansia, non sai più come comportarli, non hai rapporto perché lo Stato non c'è più, quando vieni lo Stato che tratta con geni a Caronia, va benissimo, va benissimo, va benissimo così, ma io non mi scandalizzo perché il capo della polizia va a trattare con geni a Caronia, io mi scandalizzo quando il Presidente della Repubblica riceve un condannato e viene benissimo al criminale, ecco qui, ecco qui, ecco qui mi scandalizzo e allora Berlusconi va in televisione, zampetta dall'università per tenere in piedi le sue aziende e basta, perché stanno andando a picco e lui si rivolge agli anziani, si rivolge agli anziani, vedi che ti ha già mollato la tua compagna, non ce la fa più, sei rimasto da solo, bene, si rivolge agli anziani dicendo guardate che Grillo, se va al potere Grillo è cattivo, è cattivo Grillo, si toglie la pensione, è uno, è il Führer, sono Hitler e magari la pensionata di Occantane dice che c'è cattivo, grida, dobbiamo gridare, grida, sputa, spaventa, dice le parolacce, è chiaro che una persona di una certa età si spaventa, ma la mia rabbia non è cattiva, la mia rabbia anzi è una rabbia buona, è una rabbia che ha permesso di aggregare a un sogno 9 milioni di persone e forse anche 10, ed è bellissimo, ed è bellissimo, ed è bellissimo anche la parolacce, mio Dio, io vorrei fare un delogio, davanti a San Francesco le diceva anche lui le parolacce, quando i piccioni mi cagavano in testa, andate dalla legge, allora, non so se mi cagavano in testa, ma lui non ci parlava, allora, la parolaccia è buona, la parolaccia serve a veicolare un concetto con più forza, fartelo arrivare, è buona, e io sono cattivo, è vero, è vero, io sono cattivissimo, non cattivo, e io vi dico cosa faremo i primi 100 giorni a questi che ci dicono che siamo cattivi, vi dico quello che faremo i primi 100 giorni con i giornali che ci massacrano tutti i giorni, che vengono qua a fare una ripresa della piazza nel pomeriggio e poi fanno l'imparatura dal basso verso l'alto, in modo che la piazza è la vuota e Grillo parla i soliti fan scatenati, ecco cos'è, ecco cos'è, nei loro giornali, dove io sono l'estremista, dove sono il fascista, sull'unità, io sono quello lì, i primi 100 giorni, il primo giorno quando andremo a governare in questo paese, perché ci andremo, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo, ma ci andremo in modo pacifico, quale violenza, fossimo violenti sarebbe successo il fin di mondo in questo paese qua, abbiamo stoppato la violenza in questo paese, in tutta Europa sono saliti al potere i nazisti, i fascisti, guardate Alba Dorata in Grecia, guardate Le Pai in Francia, guardate in Ungheria, il 20% del partito nazista, se qui non si è formata, noi abbiamo inventato il fascismo e l'abbiamo esportato in tutto il mondo, se qui non è nata una forza violenta è perché ci siamo noi che facciamo una cuscinetta, perché la nostra violenza è andare per banchetti, raccogliere firme, andare a farsi votare, a farsi eleggere, ecco qual è la nostra violenza, e non prendere soldi, noi facciamo quello che abbiamo detto, cari signori, qui verranno tutti, verranno in questa piazza o in altre piazze, li sentirete parlare, quei pochi che si azzardano senza scorta, perché non si azzarda più nessuno, caro, non si azzarda, mettono i telefoni e poi si accorgono, che come escono, ma stai, come? Si accorgono, Scajola è rimasto sorpreso, Scajola è l'uomo più sfidato del mondo, è sfidato, è tra la casa che non sapeva, e adesso i giornali titolano l'ha arrestato Scajola e Grillo, Scajola e Grillo, non ci mettono il nome di quello che hanno arrestato, Scajola e Grillo, e allora il pensionato alla finestra, il cetello lì lo sapeva, che era cattivo, non sono io! la prima cosa che faremo, a questi giornali sovvenzionati dalle nostre casse, toglieremo i rimborsi agli editori, se l'unità volstiva e le casse non dice se ne pagano loro, l'editore soglieletto, l'editore o diventa puro, l'editore non può procedere più del 10% della proprietà, il 10% della pubblicità, o diventa puro o ridà indietro l'eccesso di quote che ha, non c'è al mondo una confiduzia al mondo che ha una radio e un giornale, non c'è al mondo una persona che fa aziende nel carbone, nelle rinnovabili, parla di De Benedetti, tessera numero uno del PD, che vive in Svizzera, quello che dice che io sono un fascistello populista, lui dalla Svizzera, la prima cosa che faremo è che andremo a vedere il signor De Benedetti quanti soldi aveva prima, quando ha preso l'Olivetti in mano, la più grande azienda stratosferica di informazione d'Europa, andiamo a vedere quanti soldi aveva De Benedetti quando l'ha preso, andiamo a vedere quanti soldi aveva De Benedetti dopo che ha lasciato l'Olivetti, l'Olivetti che aveva 70 mila dipendenti, 32 mila ingegneri e oggi ha 400 dipendenti che montano una stampante coreana, andiamo a vedere i suoi conti, non i miei, pioggia dorata di soldi sul blog di Grillo, vergognatevi, vergognatevi, io ho fatto vedere il mio 740, l'ho pubblicato a Libra, andate a venire quanti soldi ho fatto in questi quattro anni, ma va bene così ci mancherete, li ho fatti prima, quindi avete fatti fare voi, ma li ho presi subito la mente dalle tasse, siete venuti a degli spettacoli e io vi facevo ridere e loro avevano i 2.90 euro, e che cazzo, e allora mi avete fatto stare bene, oltre, oltre, ecco perché sento il dovere di ridarvi indietro qualcosa, ecco perché sono uscito, ecco perché, e non c'è, e non c'è cazzo, e non c'è cazzo, e questa cosa li fa impazzire, li fa impazzire che una persona come me che poteva starsene tranquillo, con del Sissone, li fa impazzire che uno può fare delle cose per gli altri senza averne un beneficio economico di ritorno, li fa impazzire perché non riescono a capire, è gente senza emozioni, è gente che sono preda di una malattia, bisogna osservarli in un altro modo, se no non capisci la realtà, o vai a casa, come nel castello dei destini incrociati di Calvino, vai a casa e ti appelli per i piedi e guardi il mondo alla rovescia, allora qualcosa puoi captare, ma lo devi vedere dal punto di vista psichiatrico questo mondo qua, se no da neurologo, se no non lo capisci, non lo riesci a capire, questo è un mondo così, al contrario, al contrario, ed è un mondo strano, e allora ai primi giorni faremo questo, toglieremo i rimborsi, toglieremo anche l'albo dei giornalisti che non esiste al mondo, l'albo dei giornalisti, il giornalismo lo fai tu, lo faccio io, siamo giornalisti di noi stessi, ecco perché vi prego di non dare il voto a nessuno, diremo tutte le stesse cose, ma siate curiosi almeno per Dio, vi chiedo un po' di curiosità, non vi chiedo il voto, vi chiedo di non starvene dalle immagini o le inquadrature di una televisione pubblica che costa un miliardo e settecento milioni e che mantiene tredicimila dipendenti sottoutilizzati per dare il sessanta per cento del saturato a società fuori, fatti dagli amici e dei parenti, un miliardo di soldi, e quando guai noi abbiamo uno dei nostri che fa la vigilanza Rai, abbiamo chiesto i nomi delle cinque società che gestiscono un miliardo di soldi pubblici, si chiamano le FIFI, le cinque allegre, il CdA ha detto che non possiamo, sono dati riservati, sono dati riservati, sono dati riservati, una televisione pagata dai pensionati, da questa gente a cui adesso vogliono che gli diamo il voto, pagate da voi e vi prendono ancora di più per il culo, c'è una presa per il culo totale, totale, perde duecentocinquanta milioni all'anno, l'anno scorso, la razza, Mekas perde duecento, l'altro ne perde cinquanta, questi che fanno l'opinione, plasmano l'opinione, gli stanno scavando la fossa da soli, si scavano la fossa, allora c'è la rete, noi siamo un prodotto di rete, noi bypassiamo il radar di questa informazione qua, la bypassiamo non c'è nessuna oggi, in trenta secondi siamo già online per far vedere la piazza, non hanno scavo, fanno sicure di merda, non con me, non con noi del movimento, con i cittadini che dovrebbero tutelare con la loro caccia di informazione, noi facciamo così, un'altra cosa che faremo nei primi cento d'ordine perché siamo cattivi, allora prima di mandarli tutti a casa, tutti a casa, questo è stato il nostro slogan quando ci siamo presentati alle elezioni politiche, noi non abbiamo cambiato una virgola, bisogna che facciate questo calcolo, guardate chi vi dice le cose perché diremo le stesse cose, guardate chi mente e chi non mente, noi abbiamo fatto quello che abbiamo detto, non abbiamo fatto alleanze quando arrivavano lì facendo finta di fare un'alleanza alla sinistra con noi, quando voleva 11 senatori per governare senza di noi, noi siamo il primo movimento in Italia, il primo, se lo devono mettere in testa, ci devono rispettare, considerare, noi grillini, si sorprenderanno, si sorprenderanno, specialmente a Bologna, quando eravamo 40 mila nel 2007, ci siamo materializzati dalla rete e si sono sorprenderanno come sono usciti questi uomini, si sorprenderanno anche stavolta e prima di mandarli a casa tutti, facciamo quello che ci fanno a noi, coi redditometri, vogliono sapere i mille euro dove vanno, vogliono sapere se tu porti dei soldi più di mille euro, che cosa ne fai che te l'ha dato, ce l'aveva mio nonno sotto il materasso, non si può, bisogna vedere il materasso, allora noi invece vogliamo vedere come loro spendono i nostri soldi e soprattutto populista, e allora populista è la più bella parola che c'è oggi in politica, è la più alta percezione della politica oggi, il populismo, mio mio, e dire di no è la più alta forma di fare politica, dire di no a questa gente, non dire di sì, dire di no, basta! Bene, noi faremo il politometro, guarderemo quanto hanno guadagnato, abbiamo già, sono tutti ingegneri informatici, abbiamo già gli algoritmi, incrociamo 4-5 dati, non ci vuole molto, ecco perché sono terrorizzati, noi lo facciamo, questa gente ha rubato secondo la Corte dei Conti, io do ragione alla Corte dei Conti, anche quando viene contro di noi, non mi permetto di dire che sbaglia la Corte dei Conti, fino a prova contraria, poi mi autosospendo, faccio la mia indagine, vado al car, sentarmi da ragione, torna tutto come prima, però sino adesso la Corte dei Conti ha detto delle cose molto importanti in questo paese, ha detto che 3 miliardi e mezzo della politica sono stati rubati agli italiani con una truffa semantica, io ero venuto a dirvele queste cose che ci truffano con le parole, ci truffano con le parole e con una truffa semantica passata da investimenti a rimborsi ci hanno portato via 3 miliardi e mezzo, questi 3 miliardi e mezzo dove sono? Io li rivolgo indietro, noi non abbiamo preso i 42 milioni, devono ridarci i soldi che hanno investito nelle loro fondazioni da 2.350 immobili, dai loro conti correnti, dai loro cazzo di scudi fiscali di perda che si sono ripuliti i soldi col 5% e a te ti affossano l'azienda, la casa con equità e loro col 5% sono fuori. Io sono sempre stato così, mi ritrovo essere un leader politico, allora vengono da me e correnti, questo è Bettino, guardate che questa gente qua, dal punto di vista neurologico, bisogna che riguardi, sono persone, le Bettino, Rigor Mortis, Letta, tutta gente, tutti i nostri ministri dell'economia che arrivano dalla GP Morgan, tutta questa Morgan Estale, tutta questa gente qua, devi guardarla, analizzarla dal punto di vista psichiatrico, se no non riesci a capire. E' gente che ha una malattia che si chiama alexitimia, alexitimia o alexitimia, che è una malattia vera in neurologia, significa che non hai la capacità di riconoscere le emozioni tue e le emozioni degli altri, ecco perché sono così, non hanno le parole per definirle, io mi incazzo, sono vivo, sbaglio, sbaglio anche per voi, io sono un raddomante che vado in giro con un iphone e dico guarda un po' lì, vai a vedere lì, non guardare lì, vai a vedere, più di lì non posso andare, poi faccio le mie cappelle, ma sono umanamente una persona sensibile, mi incazzo, mi commuovo, ho i miei sentimenti, no? Guarda questa gente qua, che non li recepisce, perché non li sa, non ce l'ha, non ha le parole per definirle, fanno due più due, fa quattro e quel quattro lì anche se causa migliaia di morti, decine di migliaia di aziende che chiudono, gente che si ammazza, loro hanno fatto due più due, quattro, non li ne frega un cazzo che dietro quella operazione lì ci sia una tragedia umana, e l'Emetino è così, fa fila, lo vedi, vuol fare il simpatico e non c'è più persona antipatica di quello che vuol fare il simpatico a tutti i costi, mi sono rotto i coglioni di questa gente, figa, figa, che vive sulla menzogna perché non c'è un giornalista che durante un'intervista dica ma lei ha detto una cosa che non è vera, qua ci sono le carte, noi siamo andati all'espo, ci siamo andati perché la magistratura ha reagito dopo tre giorni, perché siamo andati con 40 parlamentari e ci hanno dovuto aprire i cancelli, e io ho parlato proprio con quello che hanno arrestato, mi diceva tutto a posto qua, non succede niente, e io dicevo ma com'è tutto a posto, non c'è un cazzo, c'è un campo di un milione e mezzo di metri quadri, non c'è nulla, ma il business dove era, non era dentro l'espo, è già una concezione del Settecento perché l'espo lo potevi fare in un'altra maniera, lo potevi fare frammentato in tutta la Lombardia, in tutta l'Italia, fai venire 20 milioni di stranieri, organizzi un'espo nazionale, li porti a far venire come fanno la piada, come fanno il formaggio, come fanno le cose, li porti dentro lì con un piano online di turismo meraviglioso, non li fai assaggiare un cazzo di formaggio sotto una tenna nel posto più brutto del mondo, vaffanculo, a diventare una grande occasione, ma non ne ne frega nulla, non ne ne frega nulla, perché il business non era quello, il business era al tono, era al tono fare sopraelevate, fare tangenziali, fare un'autostrada da 15 corsie da Monza a Milano, 15, sopraelevata che passa vicino alle case, a Paderno e Mugnano ci sono andati, e mentre facevano i loro appalti, i nostri consiglieri regionali, liberamente eletti dai cittadini, li hanno chiusi fuori dal Consiglio regionale, chiusi fuori, come fanno in Parlamento, che con Maria la Dolorata, la Boldini, si chiude dentro, si chiude dentro e legifera, lo fanno anche nei comuni e lo fanno nelle regioni, e la regione Lombardia ha chiuso i consiglieri Lombardi fuori, hanno chiamato i carabinieri, i carabinieri hanno detto che non abbiamo la giurisdizione per entrare dentro, è uscito il Presidente del Consiglio regionale che non potete entrare, stiamo deliberando sugli appalti, e voi non dovete metterci becco, noi non dobbiamo metterci becco, hai capito? Noi non dobbiamo metterci becco in niente, ci metteremo, oltre al becco, ci metteremo anche una roba, altro che becco, vedrai cosa ci mettiamo? E siamo andati dentro, e gli appalti erano divisi, erano divisi, destra e sinistra, le coprosse, ah, la coprosse non prende tangenti, lo so, c'è un bell'articolo oggi del Presidente delle Coppe che dice noi siamo diversi, greganti, non era con noi, loro non prendono tangenti, loro prendono, loro vanno, si presentano agli appalti col 30% in meno, prendono l'appalto e poi in via di lavori aumentano del 30% i loro lavori, se li recuperano così, gli altri, Mantovani, la destra, c'erano tutte le aziende in appalto, del subappalto, del subappalto, del subappalto, funziona così, funziona l'appalto, del subappalto, del subappalto, e allora ecco, tangenti, tangenti, procedure e responsabilità, io arrivo da Pompei, 60 km quadrati di città, c'è il mondo a visitare, c'è il mondo, e un bambino capirebbe che non ci vogliono gli appalti per gestire Pompei, ci vuole una mancopera lì, una manutenzione ordinaria di muratori, elettricisti, degli idraulici che siano lì, fissi, non l'appalto quando è crollato il muro di Pompei, perché l'appalto, usa 100 milioni, 150 milioni, questo è un mondo da rifare, da rifare, io ho sempre fatto queste cose, signori, anche quando non c'era il movimento, non potete dirvi che io vado a Piombino perché sono sotto elezioni, io sono nato in un cartiere, sono nato in un cartiere a Genova, gli altifori li abbiamo inventati noi all'Italzile, so come è un alto foro cosa vuol dire, so che quello lì non è più un lavoro, sotto questa parola lavoro, 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 è una parola orrenda diventata, il lavoro, il lavoro, un ricatto, un ricatto alle nuove generazioni, il lavoro, o fai questo o vai fuori dai coglioni, non c'è neanche più un diritto, il lavoro, il lavoro, il lavoro, fare il minatore delle miniere di carbone nel sol ci sia un lavoro, morire a 55 anni di tumore ai polmoni è un lavoro, andare in un alto forno e ammalarsi è un lavoro, il lavoro sotto questo è diventato un ricatto perenne, ecco perché nel nostro programma abbiamo una cosa, che si chiama reddito di cittadinanza, perché il lavoro, questo lavoro, tanti lavori, non tornano più, non tornano più quei lavori, li devi reinventare, devi capire tra vent'anni dove andiamo, ma se mettiamo ministro del lavoro, uno che ha una frangetta come negli anni 60, se mettiamo come ministro dell'economia un banchiere che parla di spread e di soldi, l'economia è un'altra cosa, l'economia ci deve dire cosa produrre e cosa non produrre nei prossimi vent'anni, se devo investire in bicicletta e in automobili, se devo investire in ambienti, in piste ciclabili o in ospedali, mi deve dire questo, e come produrre, con che energia, sono lì i nuovi lavori, passare dal fossile a rinnovabili, tassi il fossile, sposti il carico fiscale sul fossile, sull'uso di getta, sul manouso e dei tassi dei rinnovabili, abbiamo gli edifici, quanto spendi di riscaldamento, quanto spendi di riscaldamento, dicelo, è un voto, perché non si possono mettere l'efficienza energetica agli edifici, con la gente dentro, lo fanno in alto abito, il 98% di edifici da mettere in efficienza sono abitati, quindi lo puoi fare senza mandare via le persone, lo puoi fare detassando quei lavori lì se uno ci mette dei soldi, come fare? Fai un cappotto esterno, metti i doppi vetri, la gente non deve andare via, metti un cogeneratore a olio di colza che fa energia acqua calda e passa da edifici, da edifici che consumano 450 kilowattore per metro quadro a 4 kilowattore per metro quadro, puoi fare edifici che danno energia, se fai rete, la tua città compra la distribuzione, la rete, ce la scambiamo tra noi l'energia, non andiamo a prendere la Putin, non andiamo a prendere nei paesi dove fanno guerra per portarci il gas, non abbiamo bisogno del gas, io ho fatto una battaglia nel modenese, se vi ricordate, nel modenese, quando c'è stato il casino, ci sono salite i rimotti, il frechi, stavano bucando, 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 la gente non sapeva un cazzo, il sindaco di Castelfranco, Castelfranco, Castelfranco Emilia, mi manda un giorno una retta e mi dice, caro Grillo, sindaco del PD, non c'era il movimento, c'era il blocco, mi dice qua stanno facendo qualcosa di strano, stanno stoccando 3 miliardi e mezzo di gas, di metri cubi di gas sotto il culo del mio paese e degli altri paesi vicini e noi non sappiamo niente, puoi fare qualcosa. Allora, io ho scritto quella lettera, l'ho pubblicata sul blog, dopo due giorni mi richiama il sindaco, questo sindaco del PD e mi minaccia, mi dice non dovevi pubblicarla, togliela, togliela, togliela subito, togliela, che il PD mi sta facendo il culo, mi vogliono mandare via. E io ho detto io non tolgo un caccio, o fai il sindaco o fai il servo del tuo partito. E allora, e allora che cosa succede? Stoccano il gas non perché ne abbiamo bisogno, non perché ne abbiamo bisogno, lo comprano d'estate che costa meno, lo stoccano e lo rivenono in Europa d'inverno che costa di più. Noi facciamo da serbatoio, con miliardi di metri cubi sotto il culo di gas, con freghi, vanno a prendere i freghi con le rivelazioni orizzontali, 5.000 sotto e 5.000 in orizzontale. Poi mettono cariche, che si chiama freghi, cariche per bloccare quel sito lì e riaprire il pozzo dall'altra parte. E noi abbiamo in terremoto. Oggi sono andato a Mirangola a dare quello che abbiamo promesso. L'abbiamo promesso di dare i soldi che avanzano. E gli abbiamo portato l'ultima traccia di 430.000 euro avanzati dai nostri soldi alle nostre campagne. Io voglio dire che abbiamo un merito e che lo dobbiamo prendere questo merito. Facciamo quello che diciamo. Non siamo migliori. Io non mi sento migliore di nessuno. Non mi sento migliore. Non mi sento migliore perché non ho studiato una persona per vero. Oggi sei onesto o lo sei dentro o non lo sei. Io sono venuto su per i miei genitori. Io parlo dal 1898. Che dialogo ci poteva essere con me? Che aveva 50 anni di più. Però mi ha insegnato con il suo comparmento tre cose. Di non metterlo in culo agli altri. Di stare con mia madre e non avere amanti in giro. Mi ha insegnato tre cose che io spero di dare ai miei figli col mio comportamento. Non ho studiato da onesto. È un tip essere onesti per noi. E allora che riforma dobbiamo fare? Che riforma dobbiamo fare in politica? Ce n'è una sola. Ma andare a casa questi e mettere dentro al loro posto persone oneste. Serve altro. Non serve altro. I piani che cos'ha il programma. Ma qualcuno che è il programma. Chi è che vota il programma? È una vita che sentite il programma. L'hanno rispettato uno. Allora, noi abbiamo scompassato. Abbiamo cambiato già il Parlamento. L'abbiamo già fatta la rivoluzione. Abbiamo fatto una rivoluzione epocale. Dove noi votiamo online. Con il mio iPhone ho votato le mie preferenze. Nessuno nomina nessuno. I 73 che andranno in Europa. Li ho conosciuti una settimana fa a Milano. Mi riconoscevo una decina. Gli altri, piacere, piacere Gino. Piacere Bello, piacere. E mi dicevano... Io non li conoscevo. E secondo la stampa li ho nominati io dall'anno. Non li conoscevo. E ho detto, ma come ti chiami? Ma tu chi sei? Io sono venuto a tutti. Cioè non ci conoscevamo. E ci hanno preso in giro. Nomina degli sconosciuti. E' il nostro orgoglio. Sono sconosciuti. E' il nostro orgoglio. E sono sconosciuti soprattutto alle procure di tutta Italia. Ecco la grandezza. E non abbiamo fatto quote rosa del cazzo. Non abbiamo fatto quote rosa nominati dai segretari. E sono venute spontaneamente. Quando lasci il libero la scelta di decidere. La gente scende il 50% di donne e il 50% di uomini. Come da noi. Beh, ci siamo. Ci siamo. C'è qualche travestito però. Allora. Allora. Allora noi abbiamo introdotto qualcosa che non c'era prima. E sono già sconvolti. Sono già sconvolti. Perché per la prima volta hanno visto girare lì. Una persona che non avevano mai visto da 40 anni. Giusto? L'onesto. L'onesto si è girato così. E tu dici chi è quello lì? Stai attento. E' l'onesto. Perché l'onesto è poi curioso. E' una bomba l'onesto curioso. L'onesto non ci sta a non capire un cazzo. L'onesto. E questa gente ha sempre votato in Parlamento leggi che non riuscivano a capire. Ecco la loro disforma e personalità. Perché quando fai quel lavoro lì che devi votare sì o no. Una cosa che non capisci. Diventi un frustrato. E sono gente frustrata. Sessualmente frustrata. Il nano prima è sempre il bunga bunga. Poi si è rotto un polso. Perché sennò diventava cieco. Poi il ginocchio. Perché poi dicevo. Dì che è duro. Cos'è la rotola? Nel buio. E adesso. Allora noi. Noi. Abbiamo messo queste persone che vanno a controllare che cosa vuol dire. La legge di stabilità per esempio. Vai a leggerla. Non è in grado nessuno di capirla. E questa è la loro forza. Farci credere che la politica è qualcosa di complesso. L'arte della complessità. Diceva Vendola. Vendola diceva l'arte della complessità. La palingenetica dell'otterazione dell'io cosciente. Che si incutura nell'antropo formismo. In universale. Ma vai a fare in culo. Se c'è. Se c'è. Se c'è veramente. Ho detto un'altra parolata. Ci farà il titolo. Il TG1. Grillo. E io. Vado a culo. E chiudono il collega me. Ecco chi è Grillo. E i pensionati. Vedi che uno che parla male non si può votare. Allora. Noi andiamo a controllare cosa vuol dire. Il coma 7 che modifica il coma 5 della legge 14. Che modifica la legge 17. Andiamo a vedere. E non possiamo starcene lì. A vedere che prendono la Costituzione. E la massacro. Siamo andati sui tecchi. Facciamo anche gesti con gli armici. Quando ti mettono al muro col 25. E non ti fanno respirare. Qualche scatenamento. Ce l'hai. Sono ragazzi giovani. Ed è giusto che lo facciano. Sono andati su per difendere la Costituzione. Costituzione che ci mettono in mano i costituzionalisti. Abbiamo la Corte Costituzionale. Sono tutti nati nel 1930. Persone meravigliose. Ma efficaci. Per dire che una legge elettorale che avevamo al Porcello. Per dire che l'anticostituzionale ci ha messo 7 anni. Sono lenti ma inesorati. 7 anni. Ma io ho bisogno di qualcuno che mi spiega la Costituzione. Secondo voi i costituzionalisti che hanno scritto la Costituzione. Che erano garantuomini. Grandi persone. L'hanno scritta per farcela interpretare da gente che fa il costituzionalista. Ma io me la sono letta. Mi sono letta in 139 articoli. Mi sono letto le parole. 9.439 parole. Divise in 480 periodi. Ogni periodo è sotto le 20 parole. 19 parole e mezzo. L'hanno scritta apposta. Che ogni periodo deve avere meno di 20 parole. Perché è più intelligibile. Più comprensibile. L'hanno lo avevano predetto. Noi non abbiamo bisogno che uno ci spieghi che cos'è la Costituzione. Ce lo dobbiamo leggere. Paragrafo per episodio per episodio. Nelle scuole. Insegnarla. Ripeterla. E farla. E allora diventeremo uno Stato. E allora quando metteranno negli Stati. E canteranno l'indo nazionale. Fratelli d'Italia. Lo fiscano. E giustamente fiscano questo cazzo dino d'Italia. Perché non c'è più l'Italia. Non c'è più lo Stato. E lo Stato. Fratelli d'Italia. Fratelli di chi? Fratelli di chi? Fratelli dei piduisti. Dei camorristi. Fratelli dei massoni. Fratelli di gente condannata che è lì dentro. Fratelli di chi? Fratelli di qualsiasi cosa. C'è un'associazione a delinquere. Che non si capisce neanche più cosa sia. Oggi un'associazione a delinquere. Di stampo mafioso. Che cos'è la mafia? C'era mica quello che dice minchia. Di 80 anni che sta lì con la zaina. Il mafioso dei mafiosi. Oggi ci sono i figli. Laureati ad Arba. Parlano tre lingue. Sono nei consigli di amministrazione delle banche. Delle finanziarie. A Gilevra. A Milano. Ecco chi sono i massoni. Sono in Parlamento. Associazione a delinquere di stampo mafioso. Voglio vedere. Quando arrestano per associazione a delinquere di stampo mafioso chi c'è? C'è sempre un politico. Un uomo d'affari. Un banchiere. Un commercialista. Un notaio. A volte non c'è neanche il mafioso. Allora che cazzo di associazione a delinquere di stampo mafioso vuoi? E' la legge che è diventata mafiosa. E' la legge che ti mette fuori legge. Anticipano sempre. Ho paura di queste leggi. Che penalizzano. Che penalizzano con la violenza. Penalizzano. Io voglio capire del perché nascono focolai di violenza. Voglio capire. E dovrebbero ringraziarci che in Italia non sono nati i focolai di violenza. Perché ci siamo noi che siamo la loro assicurazione sulla vita. E se dovessimo perdere noi li lasciamo al bando. Che vanno da fare in culo loro e questa Italia. No, non ce ne andremo. Non ce ne andremo a uno scherzo. Ogni tanto vi ginaccio. Il lavoro, il lavoro, il lavoro. Noi facciamo il reddito di cittadinanza. E alcuni operai arrivano sindacalisti responsabili della disintegrazione del lavoro. Ma voi qua siamo in una città importante. In una regione importante di partigiani. Di gente che ha lottato per i diritti minimi civili delle persone. E ce le vediamo portare via. L'acqua, la sanità, la scuola, l'energia. Ma ce le vediamo portare via da questi dilettanti. Guardate che il welfare non è qualcosa così che ci si può portare. Il welfare è un linguaggio. Non avrei più le parole per difendere. Io voglio difendere la mia acqua, il mio territorio, la mia cultura, la mia università, la mia scuola, la mia sanità. La voglio difendere. E la difendono fino alla fine. Non me la faccio portare via da quattro cazzoni finanzieri di un conto che si chiama Black Rock American. Arrivano qua e l'Ebettino va lì a parlare in televisione e a mentire, mentire. Abbiamo abolito le province, non è vero. L'avete chiamato in un altro modo. Perché aumenteranno di 36.000 i consiglieri comunali e di 5.300 gli assessori. Risparmio quasi zero, lo dice la Corte dei Conti. 80 euro, 80 euro, Dio mio. 80 euro, è una presa per il culo. 80 euro, non li voglio. 80 euro, presi da loro. Presi da loro. Danno 80 euro quelli tolgono l'assegno del conigio a carico. E andiamo a vedere, li sputaniamo in Parlamento dove è scritto. Dove è scritto che avete tolto l'assegno del conigio a carico. E loro dicono no, intanto hanno cambiato la parola. Non abbiamo tolto l'assegno del conigio a carico. L'abbiamo armonizzato. Armonizzato. Perché se tu vai alle posse e dici il mio assegno per il mio conigio a carico, non lo si preoccupa. Lo stiamo armonizzando in questo momento. Hai capito? Presi per il culo. Cambiano, cambiano le parole. Da imputato a indagato. Da indagato a imputato. Per loro è la stessa cosa. Per favorire la mafia. Per favorire i rapporti che hanno, pericolosi. Allora, se sei indagato, una volta, prima che facessero questa legge infame, indagato ti potevano mettere lì a resti non vicinari perché potevi impinare le prove. Eri indagato. Adesso devi essere imputato. Per essere imputato ci deve essere un processo a carico su di te. E finché non c'è il processo non ti possono dire niente. E puoi continuare il tuo lavoretto di politico, di infimo ordine. Il 416, te, che disponeva, e te ne hanno già parlato, disponeva, hanno diminuito le pene minime. Da sette anni a quattro, in modo che quattro c'è il patteggiamento a due, a due rientri e poi usufruire. Cioè non possono toglierti, toglierti. Perché mi fai questo adesso? Puoi di nuovo ricandidarti perché patteggi a due anni e poi ricandidarti. Sono i favori al nano e il nano fa i favori a quell'altro. E quando sono andato lì, tutti mi hanno detto perché non hai parlato con le Bettino. Perché non hai parlato? Io volevo parlare, sono andato lì per fare il cazzone e non dire niente. E non farlo parlare. Prima di sedermi lì mi dice tu non devi... Prima di sedermi lì mi guarda del tu. Eh, una giovialità, un'amicizia pazzesca. Mi dice guarda che io per l'amor di Dio, io non voglio niente da te, non voglio né fiducia né niente. Io voglio solo che mi stai a sentire in silenzio che io devo dirti delle cose. Così mi ha detto. Allora io ho pensato che cazzo mi deve dire questo? Mi deve dire tutto il mio programma, mi deve dire le balle che racconta, mi deve dire quello che aveva detto una settimana prima. Non sarò mai primo ministro senza le elezioni. non fanno mai le scalti a letta. Mi racconta delle balle. Io sto a sentire uno che racconta delle balle. Allora io ho guardato lui e mi sono visto io e mi sono visto con gli occhi vostri. E ho detto cazzo siamo in due. Ma io perlomeno sono un comico che è un capo politico e rappresenta oggi 10 milioni di persone. Questo qui chi cazzo è? Chi l'ha eletto? Da dove viene? Hanno spostato tutte le decisioni. Piano Casa. Piano Casa. Economico Casa. Di ieri. Articolo 13. Di nuovo. La politica, dice Nebettino, deve stare fuori dalle sfoglie. La politica deve stare fuori. L'ha detto sul Corriere. Come fa a stare fuori se è tutta dentro? E tutto deve stare fuori. E nel Piano Economico Casa. Articolo 13. Noi abbiamo le carte. Danno 25 milioni di euro alle Tfone. Lo rifinanziano. Lo rifinanziano perché sono quasi tutti in galera. E si sono divisi quei pochi spiccioli. Lo rifinanziano. Con i soldi di chi? Aumentando di nuovo le accise sulla benzina. Di nuovo con i nostri soldi. Questa è la politica che deve stare fuori dagli affari. Hai capito? Io sono stufo. Ecco perché voglio il reddito di cittadinanza. Non esiste che noi aumentiamo il nostro PIN. Siamo sotto lo 0,9. La produzione industriale in base a anno è diminuita dello 0,4%. Non c'è un parametro. Gli prestiti delle banche sono diminuiti quasi del 25% su base a anno. Signori, sta peggiorando qualsiasi cosa. Sta venendo giù tutto. È tutto virtuale. È tutto sfreddo. Le banche che stampano soldi dal nulla. Creano soldi dal nulla. Stampano soldi. Danno carte di credito. La banca. Non c'è niente di una banca. È un algoritmo. Non c'è nulla dentro una banca. C'è solo un'enorme presa per il culo della gente. Che non sa capacitarci. Che cazzo sia una banca. Andate in quadro a ritirare i vostri conti correnti. Non me li danno perché non ci sono. Abbiamo nel mondo 200 milioni, 200 trilioni di dollari di valuta virtuale. Con una ricchezza al fil del mondo di 70 trilioni. Siamo seduti su una bolla immensa che sta per esplodere adesso. Alto che 2008. Io ci sono andato nelle banche. Sono andato a parlare con profumo al monte dei Paschi. Ci sono andato a parlare con uno che in una società normale non sarebbe neanche dovuto stare lì. Sono andato a parlare con uno che è uscito dall'Unicredit con 13 miliardi di defici. Unicredit e lui se ne è andato via con 40 milioni di euro di bondi. Sono andato a dire sulla faccia che queste cose se andiamo a governare noi finiranno in 30 secondi. Perché una banca deve tornare a essere una banca. Io voglio una banca di Stato in cui mettere i soldi per aiutare le piccole e le medie imprese. Ho un tasco concordato che abbiamo fatto con i nostri soldi. Con i nostri soldi si sono diventati i nostri peggio messi in un conto che fanno la garanzia dei prestiti alle piccole imprese davanti alle banche. L'abbiamo fatto con i nostri soldi. Le banche. 147 banche là su, in cima alla piramide. Che controllano 13 mila grossi multinazionali. Le quali sono intrecciate a 43 mila multinazionali in tutto il mondo. L'1% controlla il 45% di tutte le multinazionali. Questo 1% sono le banche. Se vai a vedere una BCE, dentro c'è la Bundesbank. Se vai dentro la Bundesbank, dentro c'è la BCE. Sono intrecciate tra loro. Tutti gli ultimi ministri che abbiamo avuto problemano dalla Cipi Morgan. Ci stanno disintegrando. Noi vogliamo andare in Europa per dire che questa situazione è finita. Non patteggiare o non patteggiare. Noi non accetteremo le cose che hanno firmato. Luglio 2011. Luglio 2011. Festival dell'unità. Gargamella, intervistato da Floris. Gargamella dice Il fiscal compact non lo firmeremo mai. Siamo mica matti. Siamo mica matti. Non lo firmeremo mai. Perché darci mano agli usurai? Non lo faremo mai. Tre mesi dopo, tutto il PD all'unanimità firma il fiscal compact. È gente che mente sapendo di mentire. È la peste rossa. È la peste rossa. Non sono la cura. Sono la malattia. Allora, poi, 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 poi ce n'ho ancora due o tre. Stai, ma che ne vengono due o tre. Chiamo lì. Grazie. E... Lì è bollente. Te lo sei messo in mezzo alle gare. Un sapore a stress. Allora, questo, andiamo lì al fiscal compact, significa, non ve lo sto a spiegare, comunque, dobbiamo, secondo quello che hanno firmato, dobbiamo prendere il nostro debito, dimezzarlo in vent'anni, dimezzandolo in vent'anni, dobbiamo risparmiare, tagliare 55 miliardi all'anno per vent'anni ogni anno. Voi capite? È già partito. Sono già qua i fondi, i fondi sovrani, gli hedge fund, i derivati. Sono già qua i fondi anglo-americani che vengono qua. Sono già entrati in decine di banche. Sono già dentro il PIN meccanica. Sono già dentro il Telecom. Ci stanno portando via tutto. Ci sono parlato con un insegnante, ma noi siamo preoccupati per la cultura. La cultura sparirà in questo Paese. La dovranno gestire delle multinazionali a 2.000 chilometri. Ci sono, sai, i ragionieri europei sotto la galleria degli uffizi che stanno facendo gli inventari su cosa prendere, su cosa portare e su come gestire. Stanno già andando a Pompei a vedere come realizzare utile a Pompei. Stanno già prendendosi 250 università nostre, tra le più prestigiose del mondo, perché non è vero che siano delle cagate le nostre. Abbiamo dei politecnici che facciamo il culo così agli americani. Se li stanno prendendo gli americani, chiuderanno gli asili nido. Non potranno più essere che c'è asili nido, se non a pagamento, i ticket, gli handicappati. Stanno provvedendo. Si prenderanno la PIN meccanica, si prenderanno l'acqua, il gas, la luce. Io ho fatto uno spettacolo a Genova, su una piazza, dove c'è sotto un posteggio. E' la più bella piazza di Genova. E sopra c'è l'arco del trionfo. Hanno fatto un posteggio anche lì e l'hanno dato in gestione a una SPA americana per cento anni. Cento anni! Una piazza degli italiani per cento anni agli americani. Vaffanculo, noi non ci stiamo per queste cose qua. Noi andremo lì a dire basta. È finita, cari signori. Il populismo viene lì a dirosica il culo da sotto. E ve lo russichiamo il culo. Basta commissione. Basta multinazionale. Andremo lì a rivedere i nostri parametri. Il 3% è in bilancio. Noi siamo falliti nel 2011. 2011 falliti. 1.900 miliardi di debito. Metà in mano alle banche straniere. Se fallivamo noi ci portavamo via l'Europa. Allora mandano un curatore fallimentare. Monti, che viene qua e ci dà una strizzata alle palle perché loro devono rientrare nei loro crediti. Poi mandano l'Eta. Ci strizzano le palle a lui perché loro devono rientrare. Avevano 900 miliardi dei nostri bot che non valevano più un cazzo. Vogliono rientrare. E adesso, dal 2011, adesso... Sono i tedeschi. Sono i tedeschi. Sono i tedeschi. Arrivano i tedeschi. Questo è per il PC3. Aprirà così. Grillo nazista. Lo faccio per il PC3. Poi, se volete, posso anche scorreggiare per il PC3. Allora, noi vogliamo andare là e dire che i finanziamenti devono arrivare qua e rimanere qua. E andare alla nostra agricoltura, alla nostra pesca, al nostro allevamento, alla nostra agricoltura a chilometri zero. Deve rimanere qua e a finanziare il Made in Italy. Non lo proteggeremo. Quello vero, quello finto, sarà finita di prendersi per il culo. Noi siamo grandissimi esportatori. Noi abbiamo il 70% del nostro cibo e il 30% lo dobbiamo importare. È assurdo che noi importiamo le patate dalla Westfalia, l'aglio dalla Cina, il basilico dalla Thailandia e i cacci dalle cose. Bene. Basta. Basta. Vuoi le arance tunisine al posto dell'arancia siciliane? Ti metto lì, va al 25%. Vuoi invece spremati le siciliane? Lì, va al 2%. Rimetteremo i nostri gas. Prattenteremo i nostri prodotti. Prattenteremo il nostro parmigiano. Non il parmigiano. Prattenteremo i nostri prodotti. Noi siamo il secondo produttore al mondo di olio d'oliva. Facciamo l'olio d'oliva più buono del mondo. Abbiamo aperto i mercati cinesi. Quando hanno scoperto il nostro olio d'oliva, non riescono neanche a berlo. Sono un miliardo e 300 milioni di persone che scoprono l'olio. Pensa a te. Fattura più della cocaina. Non lo bevono neanche i cinesi. Non lo bevono. Se lo spalmano addosso il senso. Perché è qualcosa di sacro l'olio. Bene, siamo il secondo produttore del mondo e siamo il primo importatore di olio di merda del mondo. Tagliamo il nostro con l'olio portoghese e l'olio spagnolo. Lo tagliamo, facciamo male in Italia e lo esportiamo. Olio di merda. Queste cose devono finire. Come deve finire questo scappare delle nostre aziende? Lo faremo finire in modo democratico. Noi abbiamo già fatto una legge che chi se ne va e delocalizza la produzione e negli ultimi sei anni ha preso dei soldi pubblici, gli ridà indietro. Poi delocalizza. Poi andremo a dire che ci sono andato due volte. Che cosa significa essere europei? Io non lo so. Ci sono andato due volte. Migliaia di persone che girano con cartellini 28 lingue. Che cosa vuol dire essere europei? Nelle ultime votazioni su 335 milioni di aventi diritto al voto, 220 milioni non sono andati a votare. 220 milioni. Il Parlamento non c'è, non serve. Ci sono le commissioni in mano alle multinazionali. Fine. E funzionano le multinazionali quelle estere. Nelle prime 100 multinazionali del mondo non ce n'è più una italiana. Signori, non ce n'è più una italiana. Sono quasi tutte americane, giapponesi, russe e cinesi. Siamo scomparsi. E sono quasi tutte aziende di telecomunicazione. Noi, il futuro, ce lo siamo svenduti. Da tre banchieri di note abbiamo svenduto. Gli spagnoli da Telecom abbiamo svenduto le nostre aziende. Lo continuiamo a fare. Noi andiamo là a dire che queste cose saranno finite. Andiamo là a dire che abbiamo un debito bene. L'Europa non deve diventare un'unione di banche, ma deve diventare una comunità di cittadini. Se abbiamo un debito ce lo spalmiamo tutti insieme come una bella e onesta comunità. E andremo magari insieme alla Spagna, al Portogallo, alla Francia, alla Grecia. Andremo con queste persone. Avremo dei programmi comuni e andremo là a dire le nostre ragioni. Non ci stiamo lì con questi cazzo di tedeschi che arrivano lì e dettano la loro economia nel mondo. Basta. Basta. Noi andiamo lì a cambiare le cose. Se non accetteranno queste cose, proponeremo un referendum. E i cittadini decideranno se essere dentro o no all'euro. Che non è uscire dall'Europa. Non è uscire nove nazioni europee che sono dentro l'Europa ma fuori dall'euro. Sono due cose diverse. E queste nove nazioni non ce n'è una a rischio né fuori. Ci sarà una ragione? Allora noi chiederemo al popolo italiano di dire che siamo dentro e siamo fuori. È un diritto di sovranità popolare. Non di quattro sfigati messi lì in Parlamento che decidono per noi. Basta. È finito. Manderemo persone preparate. Manderemo persone preparatissime che parlano le lingue. Ci sono ragazzi forze nominari. Ieri ce n'era una a Reggio Emilia che ha detto lo devo dire. Mi diceva lo devo dire che so sei lingue. Non dire un caso, non stai scherzando. Ma vergogna. Se avessi sei avvisi di garanzia, sì. Sei lingue, quattro lingue. Gente che ha vissuto all'estero. Questa gente che è tornata qua, vuole andare lì per liberare l'Italia che è una meraviglia. Ma stiamo scherzando. Quindi, il 25 di maggio è il voto più politico che potete dare. È il voto più politico che potete dare. Il 25 di maggio o noi o loro. O noi o loro. E io so come andrà a finire. Ne libera uno. Noi. È il voto più politico che potete dare. È il voto più politico che potete dare. È il voto più politico che potete dare. Prima cosa. Prima i deputati. Prima i deputati. Gli euro-deputati. Gli euro-deputati. Gli euro-deputati. Sei tu quello delle mie. È lei. È me. La combinazione è lei. È lei. È lei. Noi non mandiamo la Zadichi, sono abituati a vedere dei resti della nostra politica mandati là, manderemo delle persone competenti, per bene, motivate, che creano trasparenza, vogliamo sapere cosa succede nelle commissioni, chi sono, nomi e cognomi, dove vanno i finanziamenti. Noi siamo il terzo finanziatore dell'Europa, abbiamo 15 miliardi tutti gli anni dei nostri soldi, ce ne danno 9 indietro e vanno a finire dove? In tre regioni, Calabria, Sicilia e Campania. Io voglio sapere chi li prende, un responsabile, un nome, il nome del progetto, che progetto è? E' un responsabile. Non c'è la possibilità di sapere nulla, perché la loro forza è non farci capire. Con queste persone capiremo tutto, ma andiamole là e cambieremo la situazione qua. Grazie.